Vuoi far parte, vuoi essere nominato all'interno della fantastica carriera allenatore Youtubers? La carriera allenatore con il Grisby è molto molto facile. Vai a mettere un bel mi piace alla pagina Facebook Piquadro Official, il link qui sotto in descrizione, oppure vai naturalmente su Facebook e scrivi Piquadro Official, lascia il tuo mi piace e scrivi Io sto con Piquadro, oppure in privato o in pubblico sotto un post, io sostengo Piquadro. Vi metterò in lista e passerete sotto la carriera allenatore Youtubers con un bel messaggio personale. Ragazzi, mi raccomando, mettete mi piace. Mister, eccoci qui. Dopo un po' di tempo sono tornato, sempre molto di fretta come puoi immaginare, perché in questo periodo sono concentratissimo e soprattutto impegnatissimo con il lavoro, dato che comunque sto visionando vari giocatori. A proposito, ne ho uno che fa sicuramente al caso tuo. Sì, lo so che probabilmente tu dall'altra parte starai dicendo sì, adesso tutti fanno al caso mio. Non ti preoccupare perché questo nome ti stupirà. Ti parlo di un attaccante, ovvero Armstrong. Fidati, lui ti farà davvero svoltare e non è uno dei classici attaccanti come potevano essere Isacco, Lautaro Martinez. Una cosa è sicura, i soldi non li butti, te lo posso assicurare. Ti do veramente la mia parola. E quindi, cioè, se te lo dico io lo sai, no? Tanto lo so che da un'altra parte dello schermo starei a dicare, guarda questo, se la tira. No, te lo assicuro. Facciamo una scommessa se vuoi, sentiamo il telefono, anziché fa sempre queste cose su Skype. Ok? Benissimo. Detto questo, in bocca al lupo per la gara con Newcastle. Ciao mister! Ed eccoci qui, tornati con un nuovo match di AFL Cup. Greensby Town contro Newcastle. Eccolo qui, il capitano. Sto parlando di Reed, il rossissimo Reed. Dietro di lui, come potete vedere, c'è Confente. Confente che torna in porta, titolare per questa partita di Coppa. Ragazzi, dobbiamo convincere naturalmente il Newcastle per un attaccante, come avete già visto nell'episodio precedente. Un attaccante, un vero bomber per la nostra super squadra. Per convincere la società, per convincere il presidente Rudy Zlatan. Ma parto subito con questo calcio d'inizio, battuto da Leandrinho, che ancora ora è in possesso palle. Passa questo pallone a Dickman per Latte, Latte, Reed. Il passaggio per Alenia. E qui, a questo punto, Mancia non riesce ad anticipare la difesa del Newcastle, che con De Jong avanza col pallone. C'è Tonei, Tonei cerca di scavalcare tutti i miei difensori. Ancora lui, Tonei, il tiro e la parata. Molto facile per Confente. Latte, Latte, qui sulla fascia laterale. Cerco di accentrarmi con Dickman. Dickman, retropassaggio per Alenia. Il passaggio a questo punto con Lautaro Martinez. Perde il pallone, malamente, Mancia. Lautaro Martinez per Latte, Latte, attenzione, Latte, latte, tira, non ci arriva. E allora ancora il Newcastle, che libera la difesa. Ma cerco di marcarlo stretto. Ancora Tonei, Tonei. Occhio a lui, l'attaccante del Newcastle perde il pallone. Dai, ripartiamo subito con Dickman per Emanuel Latte, Latte. Chiamiamolo Kinder, Kinder, Fatte, Latte. Va benissimo, mi piace un sacco. E sembra una puttarata, ma tutti i bimbi merda saranno qua ad esultare. Mamma mia, che bello! Ecco, basta. Dopo questa, basta. Occhio, attenzione, ancora il Newcastle con Ricci. Ricci, che brutto questo passaggio. Allora Mancia anticipa tutti. Riparte qua. Grande Kinder, ma perde il pallone. È stato una merenda amara per lui. Attenzione, ancora McLean. McLean, il Newcastle. Newcastle ancora in area di rigore, questa volta pericoloso. Il passaggio, madonna santa, il palo, non ci posso credere. E si salva in extremis il Newcastle. Si salva in extremis il Grisby Town. E allora ripartiamo con Chilwell. Chilwell. Un bel passaggio per le Andrini. Un 1-2 con Chilwell. Che sale. Sale Chilwell. Sale Chilwell. Cerco di andare in mezzo. Chilwell. Chilwell. La rete del vantaggio del Newcastle al 76esimo minuto. Doccia Gelida, ragazzi. Doccia Gelida. Qua callback va dal suo allenatore ad esultare. De Jong. Riguardiamo qui il replay da fuori area. Una fucilata dove Confente non ci arriva. Riguardiamo da questa posizione la rete. Il tuffo c'era. Ma la parata no. Mansiglia. Mansiglia. Il tutto per tutto. Mansiglia. Il passaggio per Latte Latte. Cambio la direzione. Cerco di passare. Latte Latte. Il passaggio. Il tiro di Mansiglia. Dai Mansiglia. Dai Mansiglia. Sì. 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 Il pareggio. 1-1. E si riapre tutto, ragazzi. Si riapre tutto. All'ottantesimo minuto. Quattro minuti dopo. Riguardiamo qui Latte Latte. Ma Mansiglia. Non demorde. Colpo di testa. Veramente debole. Non la para. 1-1. Reed. Reed. Colombo. Eccolo qua. Davide Colombo. Un uomo chiamato Scacco Matto. Colui che fa soltanto reti importanti. Attenzione al tiro. La parata. E qua c'è il calcio d'angolo. Ancora lui. Sto parlando ancora di lui. Di Davide Colombo. Attenzione. Il tiro. Ed entra in rete. Entra in rete. Il numero 3. Upamecano. Il difensore. Nel primo tempo supplementare. Porta in vantaggio il Grisby Town. Quando nessuno più ci credeva. Lui sì. Lui ci ha creduto. Upamecano. 2-1. Attenzione Cristo. Il capitano. Occhio. Cristo. Ancora lui. Dalla faccia di destra. Per Davide Colombo. Davide Colombo. Attenzione Davide Colombo. Bello l'assist per Lautaro. Martínez. Finalmente a segno ragazzi. Non segna mai. Non segna mai. In questa squadra. Fa una fatica incredibile. Ma guardiamo qua. L'assist dell'uomo che è chiamato scaccomato Davide Colombo. Calcio d'angolo del Grisby. Ultimi due minuti di recupero. E la prende. La prende il portiere. Finisce così. Finisce sul 3-1. Passa il Grisby. Ed è spettacolo. Spettacolo ragazzi. Ma ora lo spettacolo deve arrivare naturalmente con il calciomercato. Perché si preannuncia l'ultimo colpo in casa Grisby. E naturalmente potrebbe anche esserci qualcos'altro. Magari un colpo minore. Ma attenzione. La vendita di Yossuf ci fa guadagnare 170.000. Ma eccolo qui. L'ultimo colpo. Arriva. Lui. Adam Armstrong ragazzi. Adam Armstrong. Un attaccante che veramente mancava in questa squadra. Molti di voi mi chiedevano. Tra l'altro qua le altre trattative ormai sono andate in fumo. Perché arriva da noi. E dicevo. Molti di voi erano qui a dirmi. Caspita. Perché non prendi Chaplin? Ve lo dico ancora per l'ennesima volta. Chaplin. Ce l'ha nella carriera dei King. E anche in altre carriere di YouTubers famosi. Volevo prendere qualcun altro. Lo voglio fare. Voglio mandare Confente allo Sheffield United. Per farlo crescere. Sono sicuro che potrà crescere. E noi faremo crescere alla grandissima Hugh Wright. Come portiere titolare. Tanto abbiamo anche un secondo portiere. Che è veramente veramente forte. Lo so. Vi mancherà. Mancherà anche a me Confente. Ma sono sicuro che tornerà più forte di prima. Accettiamo l'offerta e se ne va lui. Confente. Poi Parigini ha rifiutato. Non è più un problema perché ragazzi è arrivato lui. È arrivato Armstrong. Ma io ci provo lo stesso. Voglio provare ad acquistarlo. Voglio provare a portarlo a casa nonostante tutto. E proviamo con 27.000 di stipendio. Come durata 5 anni. E mettiamo giocatore importante. Anche se naturalmente sono sicuro che desidererà fare giocatore chiave come contratto. Va bene. Andiamo avanti. E immaginavo. Contratto rifiutato. E allora a questo punto ragazzi. Dobbiamo fare una cosa molto 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 più interessante. Cercare un altro giocatore. Ed è un giocatore che mi avete suggerito in tantissimi di voi. E che la mia società ha accettato. E sto parlando di lui. Sto parlando del 18enne Ezekiel Barco. Barco come cavolo volete chiamarlo. Dell'indipendiente. Un giocatore che già alcuni di voi l'hanno già nominato come l'erede di Dybala. Addirittura come se Dybala fosse pronto al declino. No anzi. Proviamo un milione e due per lui. Giocatore che mi ha tra virgolette diciamo suggerito anche. Non ve lo dico. Dai non ve lo dico. È un segreto. È un segreto. È un segreto. Sto parlando di un youtuber. Ma non ve lo posso dire. È un segreto. Comunque. Andiamo avanti. Andiamo a verificare un po' la situazione qui. Per quanto riguarda i nostri difensori centrali. Abbiamo anche terzini destri. Abbiamo tante situazioni qua. Perché possiamo mettere in prestito Ferrari. Possiamo mettere in prestito anche Santoro. Che è già un 63. Ma per il momento lo lasciamo lì. Prestato un anno. Vabbè ragazzi. Facciamo così. Prestiamolo anche lui. Mettiamoli in prestito. Perché li metto in prestito? Perché poi magari c'è anche per setola. C'è la possibilità di mandarli. Ma non sempre arrivano le richieste per i prestiti. Quindi tanto vale metterli in prestito. Poi se arriva bene. Se non arriva non importa. Jonathan Lee. Anche lui. Via in prestito. Poi 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 poi. Ragazzi. Insomma. Ci sono un po' di giocatori. Ragazzi. Come vedete Lautaro Martinez è ancora sul mercato. Perché? Perché sì. Perché il mio presidente ha deciso così. Ha deciso così. Va bene. Poi 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 poi. Allora. E infatti arriva un'offerta per Lautaro Martinez. Vediamo a questo punto se riusciamo a venderlo ad un po'. Proviamo con 7 milioni e 500 mila. Vediamo se possiamo guadagnare da lui. Poi offerta troppo bassa per Barco. Ezekiel. Non so perché mi viene da dire Ezekiel Barco. Mi sa di francese. Barco. Eppure Barco. Dai lasciamo Barco. Dai. Va bene così. Ora direi che è arrivato il momento di simulare questa partita contro il Peterborough. E sì. Ci sta. Ci sta questa simulazione. E beh segna subito Leandrinho. Allora qua si sbaccia subito con Leandrinho che va a segno con l'1 a 0. E attenzione perché c'è anche il giallo di Reed che però segna. Occhio perché c'è il 2 a 0. E allora si va avanti. C'è anche l'infortunio del loro portiere. E a questo punto termina. No. 3 a 0. Stiamo dicendo termina sul 2 a 0. Invece no. Termina sul 3 a 0. Con il gol di Latte Latte. Allora direi che ci avviamo al termine. Ma prima di avviarci al termine di questo speciale calciomercato. Andiamo a simulare gli allenamenti dei nostri giovinciuelli. E allora c'è Uba Meccano. Autore della rete del 2 a 1 del ribaltone contro il Newcastle. E arriva al 72. Va bene. Andiamo a questo punto avanti. In ufficio c'è l'offerta di 6 milioni dalla squadra dei canarini gialli. La squadra che conquisterà il mondo. Lo dico sempre. Dovrà conquistare il mondo il Norwich City. E andiamo. Avanziamo. Andiamo avanti. Offerta accettata. Un milione e mezzo. Davvero poco. Quindi a questo punto potrebbe essere lui l'ultimo colpo. O potrebbe essere Armstrong. Io ho la netta sensazione che l'ultimo colpo di questo mercato sia Armstrong. Perché Barco è ancora un po' troppo acerbo. Vediamo. Vediamo. Allora 6 e mezzo. Continua ad alzarsi da posta. E intanto arriva Ezekiel Barco. Accettiamo l'offerta. Abbiamo pochi milioni. A questo punto confermiamo. E vediamo se riusciamo a vendere qualcuno. Proviamo sempre con 7 milioni e mezzo. Sempre per Lautaro Martinez. Avanziamo l'offerta. E valutiamo. Valutiamo. Valutiamo questi ultimi giorni di mercato. Cosa potrà mai succedere. Si tirano indietro. Il Norwich City si tira indietro. E Matteo Rossi è ormai guarito. Ok. Allora. Ultimi giorni di mercato. Avanziamo. Vediamo a questo punto che cosa succede in queste ultime ore. Con l'ufficio. Che ha una mail. Simone Santoro. In prestito al... Sì. Ci può stare. In prestito al Northern Hampton. Ci sta. Però sono indeciso. Per il momento lo rifiuto perché un 63 potrebbe risultarmi utile. Queste sono brutte storie ragazzi. Sono brutte brutte storie. Perché? Perché sì. Perché mi piacerebbe ma non ho la rosa così ampia da potermelo permettere. Ok. Andiamo avanti. Vediamo se riusciamo a vendere ancora qualcuno. Altrimenti abbiamo pochi milioncini e ce li facciamo bastare. Ma vediamo 6 ore al termine. 6 ore al termine. Ormai sono 5 le ore al termine di queste ultime 10 ore di mercato. Vediamo, 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 vediamo. Dai che inizia la stagione. Siamo al 31 di agosto del 2017. E si inizia alla grandissima. Con questa bella, bella, bella serie. Ok. Il calciomercato si è concluso. Gli ultimi due botti di mercato appunto potevano essere nient'altro che loro. Sono Adam Armstrong e lui, Barco. Allora, c'è anche un resoconto per quanto riguarda la primavera. C'è Yoyo che se ne vuole andare. Peccato. Però, vabbè, cercheremo di tenerlo. Ehi mister, grande partita quello con Newcastle, eh? Ora però è tempo di pensare al mercato. Mentre tu preparavi la partita, io mi sono messo in contatto con l'allenatore nella nostra primavera e mi ha segnalato davvero tanti giovani interessanti. Però tra tutti spicca un nome. Jay Morris. Un esterno sedicenne, quindi davvero giovane, pronto già al salto di qualità in prima squadra. Ovviamente è nato che da te valutare se il giocatore è pronto. È arrivato il momento di andare a prendere questi giovani. Abbiamo dei giovani veramente forti, soprattutto uno. Abbiamo anche Giacomo Romano che potrebbe risultarci interessante. 78-84, già un 56. Così da ampliare la rosa, offriamogli un contratto per lui. Ok, perfetto. Poi andiamo a verificare tutti gli altri. Abbiamo Michele Guidi che non è per niente male. 79-85. Ma lui, Jay Morris, è il fuoriclasse che stavamo aspettando. Un 62 con uno e potenziale da 84 a 90. potrebbe diventare davvero, davvero fortissimo. E allora l'abbiamo preso, come già ci ha suggerito il nostro bravissimo osservatore. Alla prossima. Alla prossima. Ci siamo riusciti una volta. Ci dobbiamo riuscire per l'ennesima volta a batterlo e dominarlo. Questo Manchester City. E allora partiamo subito. E qui c'è la discesa in campo dei nostri magnifici giocatori. Guardiola, ma volete mettere, ma volete mettere con il sottoscritto. Ma ragazzi, ma che Guardiola, ma che Guardiola. Eccolo qui, c'è il giocatore del City. Ma noi abbiamo Leandrinho. Leandrinho che già li ha castigati una volta. Ce la farò ancora, chi lo sa. Partiamo subito. Leandrinho contro Fernandinho. E allora subito. Eccolo qui. Eccolo qui. A dominare in campo. Il passaggio per Mansilla. Subito per Leandrinho. E allora a questo punto c'è il Manchester City che cerca di mantenere il pallone. Non ci arriva. Allora riparte qua. Mansilla per Leandrinho. Che accompagna il pallone con la sua Leandrinho. Bello il passaggio. L'ultimo passaggio che non ci arriva all'attaccante del Grisby Town. E allora Sagnat. Sagnat cerca di recuperare i difetti, le difezioni difensive di questo Manchester City con Fernando. Che accompagna il pallone per Clicci. Ancora Fernando. Fernando. Vedo il Varco qua con Sani. Subito per Clicci. Viene steso. E c'è la punizione. Armstrong il passaggio per Leandrinho. Leandrinho si allunga il pallone. Leandrinho contro Mangalai. Il passaggio per Poa. 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 Vedo il Varco. Attenzione Armstrong. 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 Prima partita. Prima rete. Che bomber. Che bomber. 1-0 in trasferta. Si inizia così questo match contro il Manchester City. Si va a dettare legge. Ma andiamo a riguardare il replay con tutti i tifosi. I pochi tifosi sugli spalti. Contro un Gun. Che ragazzi. Certo non è il portiere titolare. Ma che spettacolo. Riguardiamo qui. E accompagna dolcemente il pallone in rete. Adam Armstrong. Sané in possesso palla. Scarta diversi giocatori del Grisby. Allora ancora Sané contro tutti. Il passaggio per Delph. Attenzione. Mamma mia. Spaziamola subito. Non è possibile. Non è possibile ricevere una rete del genere con... Con Fernandinho. No. Fernando. Che cavolo è? Fernando Fernandinho. Uno dei due. In ogni caso molto molto male la difesa. Che non ci arriva in questa situazione. E Wright. Si prova a tuffare. Ma non ci riesce. Armstrong. Scavalca Mangala. Attenzione. Ancora Armstrong. Ma non ci arriva. Qui questa volta ci mette una pezza. Sané ma la rimessa laterale è ancora Manchester City. E allora ripartiamo qui con... Sempre con Sané. Con Delph. Delph. Praticamente sono tutti giocatori di colore quelli del Manchester City. Non ce n'è uno... Seriamente. Sono tutti di colore. Non ce n'è uno bianco. Non sono tutti di colore. Ma com'è possibile? Altro che Inter. E qua viene steso. C'è il fallo e il cartellino giallo. Per Grant. Grant. Occhio perché anche Grant è un bel giovane. Potrebbe fare a caso nostro. Leandrinho. 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 Il crosso. Mamma mia. Di testa. Cosa gli ha messo lì? Cosa gli ha messo lì? Mansiglia. Mansiglia. Ragazzi. Mansiglia continua a segnare di testa. E porta in vantaggio il Grisby Town. Qua una parata. Una smanacciata. Ma il portiere ha davvero diverse colpe. Molte volte non ci arriva. E allora. 2-1. Clicci sulla sinistra. Il passaggio per Fernandinho. E allora. Prende questo pallone molto bello. Interessante. Armstrong. Armstrong. Per Leandrinho. 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 Ancora lui. 3-1 ragazzi. 3-1. Contro il Manchester City. Mamma mia. Questo Grisby. Quanto sta migliorando. Quanto sta diventando forte. Questa squadra. Ragazzi. Che spettacolo davvero. Quanti like abbiamo bisogno per questo video. Tantissimi. Un premio per me e per la società. Se vi piace questo video lasciate un like. E ragazzi. Vi aspetto che nella pagina Facebook. Sané. Sané. Numeri per lui. Il passaggio per Fernando. In scivolata. Ancora. In possesso palla. Il Manchester City. Con Sanja. Per Fernandinho. Sanja. Attenzione. Che rete. Che rete. Riaprono ancora il match. 3-2. 3-2. Seconda rete del Manchester City. E non è mai finita. Non è mai finita questa partita. Siamo appena al 54esimo minuto. E c'è da tenere davvero d'occhio questa squadra. Perché è veramente forte. Mai sottovalutare il Manchester City. Mai sottovalutare. Guardiola. Manziglia. Attenzione. Manziglia. Manziglia. E qua. Ancora lui. Manziglia. Prende questo pallone. Manziglia. 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 L'assist in mezzo. Il tiro. E l'accompagna in rete. L'accompagna in rete. La doppietta. La doppietta per Armstrong. Che. 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 Che esordio. Che esordio per lui. L'assist di Manziglia. E ragazzi. Manziglia. Prende il posto di Cristo. Con. Con. Poco. 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 Silenzio. No. Con tante urla dagli spalti. Che spettacolo Manziglia. Che spettacolo Armstrong. Un'IFL Cup strepitosa. Attenzione. Non è finita. Quattro minuti di recupero. Sta. Per. Terminare questo match. Ma c'è ancora. Tanto da dire. Manchester City. Attenzione. Barco. 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 Il passaggio. In mezzo. Per Armstrong. I due nuovi arrivati. Mamma mia. Manziglia. Manziglia. Il tiro. Il tiro. Ma perde l'equilibrio. Manziglia. Strepitoso. In questo match. Che spettacolo. E allora rinvia qua. Gun. E potrebbe finire qui. Sì. Termina qui il match. E allora ragazzi. Vi aspetto nel prossimo episodio. Con. Nuove partite. Nuovi match. E un nuovo. Grisby Town. Un. E' ovo.